Buona domenica a tutti, accetto la sfida e la nomination di Tiziana Conte, ringrazio per questo, ma ricordo che lo scopo di questa iniziativa è donare. La donazione l'ho fatta due giorni fa, pertanto adesso mi accingo a girarmi il secchio in testa. A mia volta nomino Celestino Turco, Caterina Ropallo e Mario Marciano.